Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Oggi voglio parlarvi delle graduatorie provinciali e del caos che si è generato per queste graduatorie piene di errori, ma soprattutto voglio parlarvi della possibilità o meno di inviare le messe a disposizione, possibilità che ci è stata specificata in una delle ultime note del Ministero dell'Istruzione. Innanzitutto premetto che le graduatorie provinciali non sono state pubblicate ancora da tutta Italia, mancano ancora alcune regioni e soprattutto le convocazioni non sono iniziate. Non sono iniziate e quindi la scuola inizierà il 14 settembre o dopo nel caso in cui la regione abbia chiesto un posticipo, magari dopo le lezioni, senza i docenti. Le scuole sono nel totale caos. Ieri il Ministro ha affermato che le graduatorie provinciali e le convocazioni si faranno entro questo fine settimana e io ho scosso la testa e mi sono messa le mani nei capelli perché è chiaramente impossibile per alcune ragioni che hanno iniziato a convocare, che prevedono di convocare la prossima settimana. Detto questo leggiamo un po' questa nota per quanto riguarda le istruzioni e le indicazioni operative per quanto riguarda le supplenze relative al personale docente, educativo e agli ATA. Dobbiamo dire che qui vengono specificate le modalità per l'assegnazione che molti chiedono anche nei video. Se voi sarete assenti o rinuncerete alla convocazione, non potrete avere né le supplenze dalle GAE né dalle graduatorie provinciali. Potete però lasciare una delega, una delega che incaricherà qualcun altro di andare al vostro posto. Qui abbiamo poi la rivelazione scottante. Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale ed istituto e possono essere presentate per una provincia da dichiarare espressamente le distanze. Anche qui, pensavamo che le messe a disposizione si potessero inviare per qualsiasi provincia a parte quella in cui si era iscritti per le graduatorie provinciali. E questa convenzione aveva senso. Aveva senso perché se per la graduatoria provinciale io mi iscrivo, posso però fare richiesta per altre province per cui non mi posso iscrivere. E invece in questo modo, anche per chi magari abita a cavallo tra due province diverse, molti insegnanti si troveranno ad essere esclusi. Peraltro noi sappiamo che le messe a disposizione possono essere inviate da tutti e sappiamo che non tutti hanno i requisiti per inviarle. C'è chi magari non ha una laurea completa, quindi ha solo un altro annale, c'è chi magari non ha una laurea, c'è chi magari non ha i 24 CFU o chi non ha i crediti per l'insegnamento previsti. Bene, si fa per dire. Ognuno ha il diritto di lavorare e di mandare la messa a disposizione di essere contattato. Tuttavia, questo procedimento di negare la possibilità di messa a disposizione ai docenti che invece hanno tutti quei requisiti perché altrimenti non potrebbero essere iscritti in graduatoria, lo trovo estremamente grave. Qualora prevengano più istanze, nel caso in cui voi mandiate la messa a disposizione, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati e ai docenti specializzati. Anche qui non vi preoccupate perché ormai sono anni che studenti o ex per esempio diplomati al liceo delle scienze umane lavorano con supplenze alla primaria anche annuali per la difficoltà di riperire docenti. Quindi in realtà sicuramente i dirigenti danno precedenza a chi è abilitato, chi ha i requisiti, però siamo talmente in una situazione di caos e di inadeguatezza che i dirigenti si trovano poi a dover ricorrere a chiunque quasi per coprire i posti che mancano. Come saprete, per quanto riguarda le messe a disposizione, io vi ho creato un video dove vi spiego come inviarle, vi ho messo un modulo a disposizione e ho anche creato un video apposito per quanto riguarda il curriculum vite, curriculum vite che è importante inviare per quanto riguarda la messa a disposizione e che invece non serve a nulla per quanto riguarda la scuola e le graduatorie provinciali in generale. Sapete bene che quando noi stipuliamo il contratto di lavoro tramite le graduatorie provinciali vengono controllati tutti i termini che noi abbiamo dichiarato di avere, per esempio la laurea, i crediti necessari oppure le esperienze di lavoro, chiaramente sono dei controlli effettuati a campione. Sarà impossibile che tutti vengano controllati sicuramente, però voi preparatevi le carte, infatti io stessa sto scaricando moduli dall'università con la laurea, con i voti, mi sto facendo fare delle dichiarazioni per quanto riguarda un insegnamento, perché ho lavorato sempre in scuole private, eccetera, eccetera. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente dovrebbe comunicare all'ufficio competente quanto accertato e quindi poi ci sarà un prosieguo e verrà chiamato probabilmente qualcun altro. Per quanto riguarda le ore di insegnamento pari o inferiore a 6 ore, era già stato detto che queste ore vengono assegnate ai docenti dell'organico, in prima battuta. Per la scuola primaria invece i posti, gli spezzoni e i part-time vengono utilizzati e integrati con le ore di programmazione da dare nei contratti a tempo determinato. Vediamo ora le disposizioni comuni che riguardano un po' tutti. Il contratto deve essere a tempo determinato e deve avere sempre il termine, quindi 30 giugno oppure 31 agosto nel caso delle graduatorie provinciali. Immediatamente si possono fruire dell'aspettativa e del congedo previsto dal contratto collettivo di lavoro. E comunque sia, se per esempio voi siete in maternità o avete un infortunio, siete in malattia, potete differire la presa di servizio, giustamente. Anche per quanto riguarda la supplenza, di una supplenza, ovvero il primo periodo di assenza del titolare ne consegue un altro, più altri senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo e da giorno libero, la supplenza temporanea è prerogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio. Domeniche, festività e il giorno libero sono retribuite. E poi abbiamo qui un'altra questione annosa e molto critica. C'è stata un'ordinanza, come saprete, il 5 agosto, per quanto riguarda il personale aggiuntivo, questo personale covid. Anche qui vediamo che in caso di sospensione delle attività didattiche, i contratti di lavoro attivati si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo. Questa norma ha fatto molto discutere perché chiaramente questo personale covid si vedrebbe poi risolto il contratto senza aver alcun diritto. E questo è molto grave, a mio parere, perché chi si impegna anche annualmente, un docente che decide di prendere un contratto come personale covid pensa di lavorare comunque sia per almeno un anno, sei mesi, altrimenti ci si può organizzare in modo diverso e fare altro pur di lavorare, perché è questo l'obiettivo comunque sia delle supplenze, certo il lavoro di insegnante, ma soprattutto anche il lavoro in sé. Si può ovviamente stipulare un contratto a tempo determinato, a tempo parziale, può essere di 9 ore, di 10 ore, di 14 ore, di 12 ore, dipende, e chi ha la legge 104 ha la priorità di una scelta della sede scolastica, giustamente. Devo dire che questa ordinanza, questa nota, lascia molti, molto amaro in bocca, perché ci sono molti punti oscuri, oscuri non che non sono comprensibili, ma che lasciano una delusione nel corpo docente, in particolare la questione della impossibilità di inviare le messe a disposizione. Comunque sia, vi saluto e incrociamo le dita in attesa delle fantomatiche convocazioni. Al prossimo video! Grazie!